Tappeti Ciro Restauro e lavaggio di tappeti persiani e orientali L'azienda Ciro, da oltre 25 anni, si occupa di lavaggio e restauro di tappeti persiani e orientali nella propria sede, con servizio per tutta l'Italia. Il restauro viene eseguito con lana proveniente dal paese di origine, con l'esclusiva opera di maestri persiani. Si eseguono bordi, innesto, frangia a telaio, fermatura a buchi piccoli e grandi, rinforzi al fondo sia in trama che in ordito e vello. Il lavaggio viene eseguito da professionisti con tutti i trattamenti necessari per garantire vita illimitata al tappeto. Si effettuano inoltre trattamenti antitarme, antimuffa, antiacari e disinfezione con ritiro e consegna a domicilio. Tappeti Ciro, specialisti e esperti per ogni tappeto.